E ora a Todi dove l'Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli festeggia un anniversario molto importante, 150 anni. Andrea Chioini. 1864-2014, 150 anni con i piedi saldamente piantati per terra, trascorsi dalla fondazione dell'Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli di Todi. Celebrazione che sta intrecciando l'attività didattica dell'anno scolastico in corso con una miriade di iniziative per rilanciare i motivi che stanno facendo della scuola Tuderte un punto di riferimento nell'istruzione agraria in Italia. E dal 3 al 6 maggio a Todi si svilopperà un confronto particolarmente intenso tra coloro che prendono le decisioni in merito all'agricoltura italiana, un comparto sempre più strettamente intrecciato con le politiche dell'alimentazione e dell'ambiente. Quattro giorni di convegni, proiezioni e mostre a cui prenderanno parte rappresentanti della FAO, di due ministeri, istruzione e agricoltura, degli ordini professionali, di associazioni di categoria, della rete italiana e istituti agrari e oltre a Regione Umbria, Comune, Galma e Diotevere. Tutte persone chiamate a dare futuro al settore primario per farne un motore per la tenuta dell'economia e del lavoro e Ciuffelli ne è un banco di prova in permanente attività. Frutteti, vigneti, serre, cantina, caseificio, allevamenti ed ora anche promozione di Land Art per la valorizzazione del paesaggio con una mostra alla Sala delle Pietre fino all'8 giugno.